Buongiorno, come ti chiami? Simone, ciao Simone, sono Andrea, farò il video. Che facciamo oggi? Tettavo il suicidio, non lo so. Ma guarda, mi poteva scegliere se andai a giocare a bocce o... Al mare o per un quinto? Abbrozzati, siamo abbruzzati. Sicuramente era meglio andare al mare, però vedi un po' di... Vabbè, poi ne parliamo dopo, allora. Se è meglio venire a fare questo, andare al mare. Va bene, dai, mi raccomando, buon divertimento e sorridi in uscita. Ok, cinque, a dopo. Stiva i cosciali, che sennò dopo ne i voi stiva, eh. Sì, stai giro. Sì, stai giro. Stai giro. Stai giro. Non che si tratta, non che sia un po' di armi. Qu'è ha fatto? Non è una ura, non è una ura, non è una ura. Qu'è la ura? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.